Mi fa molto piacere che proprio in questa sede del Festival dell'Annunziano sia stato presentato questo progetto creato dai nostri studenti per una espansione di Viale Pindaro dedicata soprattutto al verde, alla socialità e alla costruzione di qualcosa di bello che sia curibile anche della cittadinanza. Noi stiamo lavorando sull'espansione di entrambi i campus, sia quello di Chiti sia quello di Pescara. In tutti e due casi ci dedichiamo con particolare attenzione al fatto che lo sviluppo sia armonico, sia sostenibile e sia ecologico. I progetti fatti dai ragazzi sono diversi, possiamo scegliere uno, ma vanno incontro esattamente a quello che vogliamo fare, cioè non edificare più di tanto nel senso di cemento, ma sviluppare soprattutto il verde e la sostenibilità della zona.